e vinti! Vai Ives! 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 Grande partita! Grande vittoria! La partita si è conclusa! Televittoria Ives 2002 ha portato la vittoria qui al campo di Borgaro. Qualcuno è dispiaciuto? Mattia! Tutti! Arriva noi Marco! Arriva! E' un po' che non lo faceva! Mamma mia! Bravi ragazzi! Bravi ragazzi! Ives! 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 Bravi ragazzi! Grazie! Un po' di morale c'è! Al montaggio RVM! Ringraziamo il gentile pubblico di questa visione che sarà messa in onda! Bravo! I miei collaboratori che saranno messi in onda! Ringraziamo il pubblico! Ringraziamo l'RVM! Ringraziamo la squadra esterna 2 di Borgaro! Andiamo all'inno studio da Televittoria Ives 2002 alla prossima puntata! Ciao!